vedo che è collegata con noi l'azienda si sta tirando indietro rispetto agli impegni presi e questo sicuramente non rispetta quello che appunto l'azienda che si sta tirando indietro anche il governo ha cambiato più volte posizione sulla questione dello scudo penale il governo più che ha cambiato idea c'è stato un Parlamento che ha deciso e che ha votato quindi questa è la volontà parlamentare ma ripeto, questo mi sembra uno specchietto per le allodole questo dello scudo c'erano degli impegni precisi e degli impegni che non vogliono essere mantenuti domani incontreremo l'azienda e capiremo che cosa vuole fare è ovvio che l'impegno era quello